Mi dispiace molto, ma dobbiamo restare ancora nelle 50 sfumature di nero. Obbligheremo i ristoranti a mettere i formaggi italiani nel menù. L'ultima, dire lo brigida, è il made in Italy forzato. Dunque, una volta per la patria bisognava donare l'oro, adesso bisogna mangiare con la cacciotta, no? Tu pensa che percorso estrepitoso che ha fatto la destra in questo paese dà d'annunzio all'olobrigida, che è come passare da Beethoven a Povia. Poi, per la verità, l'olobrigida ha smentito di aver detto che il formaggio è un obbligo, ma il gambero rosso ha replicato di aver semplicemente sbobinato le sue dichiarazioni. L'olobrigida, vorrei imporre un piatto dedicato al formaggio nei menù degli esercizi di ristorazione. Imporre, vedi che ha ragione il ministro L'olobrigida, non ha detto obbligo, ha detto vorrei imporre sfumature. Grazie. Grazie.